La strada viene pulita solo in occasione di grandi eventi. Sono arrabbiati i residenti di via Chiazzolelle, la stradina che da via Giovanni XXIII conduce a Villa delle Ginestre. Una problematica atavica e a quanto pare mai risolta. Via Chiazzolelle è da anni che non si pulisce. È pulita solo in alcuni eventi che viene qualche VIP a visitare la via. È più di un mese che la strada non viene pulita, dicono alle nostre telecamere. È una vergogna. Eppure via Chiazzolelle rappresenta la via d'accesso alla villa che ospitò Giacomo Leopardi e soprattutto in questo periodo è frequentata da molti turisti. Ora sono più di un anno che questa strada non viene pulita. Passano tanti turisti che vengono da fuori, da tutte le parti d'Italia e si lamentano. Ci auguriamo che il Comune prenda il più presto dei provvedimenti. Diversamente saremo costretti a rimboccarci le maniche e farlo noi. Se qualcuno ha la bontà di mandare qualcuno a pulire questa strada ci fa tanto piacere. Se no come sempre ci rimbocchiamo le maniche e se lo possiamo fare lo facciamo. Grazie a tutti.